Quindi, dopo tanto, mi è venuta voglia di buttare due righe, perché forse sono stato un po' distante dai nostri tifosi, quindi, distante come presenza, diciamo, speaking colore, dovuto a queste due righe che vorrei volentere, prima di lasciare la giusta pervista alla routine, il corso verificato dalla giornata. Cari tifosi, domani saranno quattro mesi che ho l'onore e l'onere di dirigere la società, della nostra squadra del cuore. Sono stati quattro mesi difficili, nel quale ho potuto constatare direttamente quanto sia complicato per organizzare con dirigenza e nel rispetto delle regole una società di calcio, soprattutto in una città importante come quella di Rai. Non mi riferisco alla gravosità del compito che mi sono assunto, su cui evito di soffermarmi ulteriormente, per non incorrere in altre pacchettate di esperti commentatori, tanto sferzanti le loro valutazioni inconsapevoli, quanto tuttora disinformati sulla effettiva realtà della situazione in cui è in Italia. Ma, alle numeracissime insidie, solo in minima parte, giustificate dall'inevitabile rilevanza pubblica di tale attività, alcune assolutamente innocue e prevedibili, per la loro chiaro provenienza, altre generate ad arte, dai navigati, vuoi e vostri. Come detto, non voglio, in questa serie, non mi guardarmi su questo tema, pur invitandovi a riflettere attentamente su tutto il variato mondo che circonda l'attività del club, perché solo l'approfondita osservazione di quello che accade, come pure di quello che è accaduto in passato, anche recente, può consentirmi di comprendere perché è così difficile fare calcio a bai. Mi rendo conto di aver avuto solo pochi contatti con voi, ma credo sia opportuno lasciare ai protagonisti del campo un'esperienza a mio avviso meravigliosa del rapporto con una titolaria impareggiabile, come quella da voi composta, invidiata da tanti miei colleghi presidenti, che a mio parere rappresenta un valore inestimabile e la vera forza della nostra società. Voglio invece ringraziarvi tutti agli oltre diecimila abbonati che mi hanno dato fiducia a coloro che sacrificano famiglie e tempo per seguire ogni trasferta. Nel duemila indomiti innamorati che hanno continuato di reggiare i nostri colori anche nella delusione dell'ultima partita di Frosinò. A tutti quelli di voi che palpitano dinanzi alla televisione o con l'oleto o la radio ogni volta che scendono in campo i nostri calciatori. Siete tutti nel mio cuore, dal primo all'ultimo. e voglio anche chiedervi scusa se la società della nostra squadra non è ancora all'altezza delle legittime aspirazioni. Sicuramente ho già commesso tanti errori ma vi assicuro che impiegherò ogni minuto più di mia giornata come già avviene da quattro mesi a questa parte e forse anche prima. A creare le basi perché il club assume finalmente una dimensione in consola alla sua tifoseria. Non sono abituato a chiedere aiuti specialmente quando sono convinto delle mie scelte e dei miei progetti. ma sono sicuro che il profondo amore che vi lega ai nostri colori vi farà capire che proprio in questo momento come in tanti altri di livelli più difficili attraversare il club occorre tutto il vostro supporto tutta la vostra compressione tutto il vostro limitabile incitamento verso il direttore sportivo l'allenatore l'intero staff tecnico tutti i calciatori e coloro che collaborano incessantemente anche dietro ai punti vi assicuro che si tratta di bravi ragazzi seri professionisti ciascuno di essi non ha mai esinato di profondare il massimo impegno e continuerà a profonderlo per i nostri cori vi assicuro adresi che la società è vigile e vi chiedo di lasciare esclusivamente ad essa come l'altro canto è giusto che sia l'onere di intervenire in qualunque caso ciò non dovesse avvenire domani vi chiedo qualcosa in più del solito cavolo soffrirò e giurirò ancora questo è quanto mi viene in mente proprio questa giornata molto molto particolare anche alla luce di tanti rumors e tanti chiacchierici che non vorrei soltamente che si tolgano tutti quanti noi dalla concentrazione e dalla convinzione che siamo e stiamo costruendo una famiglia una famiglia unita e che domani parli il campo il suo verbetto nel bene e nel male sarei raccugnabile e confido dalla comprensione buonasera e lascio la parola al ministro per la intervista